bello a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale oggi siamo tornati sul mio canale per parlarvi di una nuova incredibile novità che vi avevo annunciato da giorni e che finalmente oggi vi porterò nel canale per mostrarvi, sono veramente eccitato da questa cosa è da giorni che volevo averla tra le mani mi direte ma cos'è, cos'è, adesso ve lo dico faccio una piccola premessa e voglio ringraziare tutti i miei 500 passi iscritti ne ho persi alcuni l'altro giorno per youtube che ne ho tolti di alcuni voglio ringraziare anche tutti i miei iscritti per i risultati che ho ottenuto nel mio canale perché su alcuni video ho fatto più di mille visualizzazioni e voglio dirvi che avremo un cambiamento nel mio canale aggiungerò infatti ai miei video una terza fetta molto fondamentale allora, io spero che tutti commentiate sotto questo video dicendomi cosa ne pensate di quello che sto facendo se sto facendo bene le cose appunto che portano il canale allora la prima fetta di video che non tornerò a portare penso sia no Clash Royale finché il gioco mi piace e come ripeto porto solo ciò che mi piace nel mio canale continuerò a giocarci e a portarvi dei video nel momento in cui il gioco mi annoierà penso sarà difficile per me portarvi dei video su Clash Royale perché non facendo una cosa volentieri non varrò fuori neanche di video interessanti quindi ve lo dico finché mi piace lo porterò la seconda fetta di cose che porto sempre al mio canale riguardano le serie tv e di film e l'ambito scientifico video che porto circa una volta a settimana e che trovo molto interessante perché sono proprio i miei interessi e siccome sono di miei interessi come vi ho detto mi piace portarli quindi vi ripeto dopo sotto commentate se vi piacciono le cose che mi sto portando se avete delle idee o delle proposte su serie tv film anche libri che volete di cui vi parli lo farò molto volentieri la terza fetta di novità che porterò da oggi in poi al mio canale sarà quella riguardante l'ambito del gaming non però mobile come fino adesso di Clash Royale ma il gaming vero e proprio che riguarda le console come l'Xbox One la Playstation 4 e così via infatti possego un Xbox One e da molti molti anni ancora prima con l'Xbox 360 la Playstation 3 e la Playstation 2 ho giocato per anni e per anni ancora a giochi di qualsiasi tipo di avventure sparatutto di corsa di guida di calcio e ancora oggi ci gioco molto e vi annuncio la novità ho comprato la Elgato 60 FPS HD con la quale che è una scheda di acquisizione video potrò portare nel canale numerosi gameplay wall truth guide su molti giochi che spero molti di voi appreziate e vi piacciono qual è la novità? adesso vi mostrerò il primo spezzone di video che vi ho registrato e in questo video appunto abbiamo uno spezzone dove vi mostro tutti i giochi che io posseggo su Xbox One e di cui io vorrei portarvi almeno dei video su questi che siano guide gameplay video interessanti novità qual è la cosa che io vi chiedo fortemente? primo datemi dei consigli e innanzitutto la vostra approvazione cioè ditemi vi piacerà questo tipo di contenuto nel canale? seconda cosa guardate i giochi che io posseggo su Xbox One e ditemi se volete che ne porto alcuni di questi quali in particolare e che cosa vorreste vedere io comunque in qualche caso vi porterò dei contenuti che deciderò io ma vorrei che dalla parte vostra vi sia una certa attività e mi dicete appunto concretamente che cosa volete che io vi porti ora entreremo subito all'interno di questo video tra pochi secondi eccoci qua questa è la mia Xbox questi sono i giochi che ultimamente ho giocato abbiamo GTA 5 GTA 16 Call of Duty 3 ma andiamo sui miei giochi e le mie app ecco qua questi sono i miei giochi ultimamente sto giocando molto a Doom comunque abbiamo Call of Duty Black Ops 3 Fallout 4 God Simulator che l'ho scaricato perché era gratis FIFA 16 GTA 5 Star Wars Battlefront Net for Speed Rivals come vedete Net for Speed Rivals poi abbiamo Killery questi sono tutti altri giochi che non ho nella Xbox ma che potrei scaricare ma vi affermo vi dico io potrei scaricarne degli altri dovete dirmi voi che cosa volete posso portarvi anche gameplay su altre console su DS su PSP cioè io voglio che sinceramente guardiate questo video della Xbox dei miei giochi mi diciate che cosa volete e io il video termina qui proseguiamo con il nostro video normale io vorrei che mi diciate se questa idea vi piace se vi ha letto l'idea che vi porterò dei giochi per l'Xbox delle guide dei World Truth cioè se a voi vi piace Doom non lo so volevo portarvelo volete che vi porto Doom vi faccio una guida ve lo mostro come si gioca vi mostro i livelli come trovare i segreti volete che giochi a GTA 5 online GTA 5 la campagna insomma avete capito la cosa che a me interessa è che voi commentiate questo video dicendo se vi interessa questo e soprattutto cosa vorreste che portassi nel canale ringrazio tutti di questo grandissimo traguardo ho fatto un notevole investimento in questa scheda d'acquisizione ma so che saranno dei mi porterà dei guadagni non nel senso di denaro mi porterà come al solito vi ripeto a me non interessano i soldi è una mia passione questa può essere che in un futuro mi passi e passerà anche la voglia di fare video ma in questo momento ce l'ho e voglio allettarvi con questi video quindi ringrazio tutti commentate numerosissimi voglio che mi commentiate perché devo capire se vi interessa o meno questo io comunque porterò dei contenuti lo stesso anche se non commentate ma a me interessa appunto che rimanete attivi ci vediamo presto sul mio canale spero con video che riguarderanno questa tematica nei prossimi giorni uscirà qualche video sempre su serie tv film anche Crash Royale di nuovo ringrazio tutti mettete like condividete con gli amici bella a tutti alla prossima da Jackie Channel